Naufragio con pochi attenuanti del aree canatese che cede l'intera posta ad un Castelfidardo, Avila a sfruttare le evidenti lacune dei padroni di casa, apparsi inaspettatamente spenti e quasi demoralizzati. Mancavano rapero, mordini e sbaffo, ma anche con il Fossombrone c'erano problemi. Stavolta in 90 minuti la compagine di Filippi non è riuscita a costruire nemmeno lo straccio di una palla goal, palesando Belluscia a parte una pochezza imbarazzante. Il Castello ha fatto il suo senza strafare, ma con l'ordine di razziocinio che lo caratterizza e la partita onestamente non ha avuto storia e non ha mai dato la sensazione di poter avere un esito diverso. Legittimamente soddisfatto Marco Giulio Dori per una vittoria che vale tanto oro quanto pesa. La squadra ha risposto benissimo sul campo perché già dal primo minuto abbiamo avuto un'occasione importante con Bragoni e poi siamo passati meritatamente in vantaggio, abbiamo sfiorato il secondo gol su un'azione con Codugno che c'è stato un salvataggio proprio al limite di Bellusci, perciò la partita l'avevamo fatta benissimo senza rischiare nulla praticamente perché se vado a vedere i tiri in porta del Recanati sinceramente non si sono stati, perciò questo è un giusto premio per la squadra per come lavora durante la settimana. 90 minuti non avete concesso nulla al di là delle lacune che sono evidenti della Recanatese. Io non parlo della Recanatese, parlo dei meriti della mia squadra che ha fatto molto bene logicamente. Abbiamo fatto una partita come dicevi Pocanzi, ordinata, pulita, sempre attenti e la cosa era più importante che avevo chiesto proprio questa cosa, l'attenzione, perché tante partite così ce le avevamo fatte sfuggire di mano proprio negli ultimi minuti era una questione di concentrazione, come dicevo i ragazzi anche in settimana, in questa categoria non te lo puoi permettere e oggi hanno risposto benissimo, perciò complimenti ai ragazzi. Bella risposta dopo la partita con l'Atletico Ascoli, poco fortunata per mille motivi. Ma io logicamente la maggior parte delle persone giudica sempre il risultato, ma in questo caso il sottoscritto da allenatore deve giudicare la prestazione, la prestazione c'era stata, secondo me la strada era quella giusta. Oggi l'abbiamo ridimostrato perché la prestazione è stata importante, abbiamo capitalizzato al massimo quello che abbiamo creato e potevamo anche arrotondare, però abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. La lotta per la salvezza era e resta una tonnara, praticamente, però questo è ossigeno puro. Tra l'altro domenica avete una partita importante come quella di oggi, con il notaresco. Ogni partita è una storia assieme, non c'è nulla di scritto, questo sta a significare che il campionato è molto molto livellato, verso l'alto logicamente, e di conseguenza ogni partita devi giocarla al massimo, sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico e mentale. Prima frazione a senso unico, con i paroni di casa non pervenuti in avanti al Castelfidardo a menare le danze. Subito Nanapera approfitta di un pasticcio tra il portiere Bellusci, appoggia Braconi che spara fuori da posizione defilata. Al dodicesimo il vantaggio, l'azione scaturisce da un tiro di Cotugno ribattuto, sulla destra si fa largo Baldini, assist a Nanaperedi, il nigeriano non si fa pregare, batte del bello in diagonale. Totalmente stere in attacco i giallorossi immacinano, un gioco improduttivo. Il Castello dal canto suo è sempre sul chi vive. Al ventiseiesimo azione di Braconi, Bellusci non lo molla, tiro deviato che lambisce il montante e solo angolo. Ci pensa poi lo svagato Gomez a regalare un pallone sanguinoso a Cotugno che si presenta solo davanti al portiere e ci mette una pezza provvidenziale Bellusci che salva letteralmente la sua porta. La musica non cambia nella ripresa. Al diciassettesimo, su rimessa laterale di Morganti Braconi, si costruisce un tiro bloccato a terra da Del Bello. Entra l'attesissimo sbaffo, la supremazia territoriale dei Leopardiani è schiacciante, ma Canonici, Gianmonito, becca un altro giallo e lascia i suoi in dieci. La pietra tombale al trentatresimo la mette Del Bello con uno sciagurato passaggio sul quale D'Angelo dorme, interviene Baldini che serve Caprari, al quale non resta altro che appoggiare in rete. Il match di sbaffo dura appena dieci minuti e viene sostituito da Valleia. Rassegnata al peggio e con immorale sotto i tacchi, la Recanatese subisce il tris con un tiro al volo facile e facile di Miotto su cross della sinistra. Si sarebbe potuti andare avanti all'infinito, ma il tran tran non sarebbe cambiato. Ossigeno puro per il Castelfidardo che aggancia la Recanatese a quota 9, ma con uno stato d'animo totalmente diverso. La nuova involuzione dei giallorossi non può non allarmare ed è doveroso intervenire. Adesso che sia ancora in tempo, Filippi, con grande onestà, non accampa giustificazioni. Ma non ci sono attenuanti, neanche scuse. Chiedo scusa a tutti i tifosi, società, per la prestazione, per quello che abbiamo fatto vedere. Quindi è tutto negativo. Le colpe sono le mie, la responsabilità è sempre la mia. Mi aspettavo più una partita di cuore, oltre che tecnico-tattica, che non voglio neanche parlare, però mi assumo tutte le responsabilità di quello che è successo. Chiedo ancora scusa alla proprietà, ai tifosi, per la prestazione indecorosa che abbiamo dato. Faccio il complimento al Castelfidardo. Faccio il complimento al Castelfidardo.